ciao ragazzi io sono francesco saviano di 3d skill up oggi faremo una breve panoramica sull'interfaccia utente di blender questo è il primo video della playlist le basi di blender grazie alla quale impareremo le cose più importanti per iniziare ad utilizzare blender all'avvio di blender verrà mostrata questa finestra nota come splash screen dove verranno mostrate informazioni come la versione utilizzata gli ultimi file aperti utili collegamenti rapidi e anche questi link alle ultime relays e al sito development fund che mi invito a visitare blender di default si apre con il workspace layout un layout che è suddiviso nei editor 3d viewport outliner properties e timeline nella maggior parte del tempo ci troveremo nella 3d viewport dove sarà possibile vedere l'intera scena e effettuare modifiche ai nostri oggetti creare di nuovi eccetera nell'outliner invece viene mostrato tutto quello che fa parte della nostra scena in modo da poter facilmente organizzare per bene le cose un altro editor importante è la properties e qui troviamo tutte le impostazioni che permettono la modifica della scena e degli oggetti attivi ogni finestra come abbiamo visto ha caricato un editor questa finestra ha caricato l'editor 3d viewport questa finestra ha caricato l'editor outliner questa finestra qui ha caricato l'editor properties e per ogni finestra possiamo cambiare il tipo di editor qui abbiamo anche l'editor timeline che ci servirà per le animazioni ogni editor possiede un header l'header è questa barra in alto che contiene tutta una serie di opzioni relative al proprio editor c'è l'header della 3d viewport l'header dell'outliner e così via alcuni editor hanno le sidebar due sidebar importanti sono quelle della 3d viewport che contengono tutta una serie di utili funzioni e strumenti che impareremo a conoscere più avanti questa è la sidebar di sinistra richiamabile anche con lo shortcut t mentre questa che di default è nascosta è la sidebar di destra richiamabile con lo shortcut n possono anche essere aperte attraverso queste freccette che vediamo qui in questo modo e ora alcuni utili consigli per lavorare in modo più efficiente e veloce con l'interfaccia utente di blender possiamo entrare nella modalità schermo intero per ogni editor basterà posizionare il cursore all'interno dell'editor e premere control spazio in questo modo si entra nella modalità full screen e per uscire o premiamo di nuovo control spazio o anche attraverso il pulsante back to previews questo vale per ogni editor possiamo trovarci in una situazione in cui il layout è impostato ad esempio in questo modo e l'header di una data finestra viene tagliato per visualizzare le opzioni tagliate basterà scrollare alcuni editor come ad esempio la proprieties hanno le schede che possiamo muovere e ordinare a nostro piacimento basterà andare su questa iconcina qui cliccare tenere premuto e trascinare questo è utile soprattutto se utilizziamo opzioni più spesso di altre ad esempio potremmo spostare questa scheda qui più in alto può capitare di aver aperto molte finestre e abbiamo adesso la necessità di chiuderle tutte possiamo farlo in maniera più agile invece di selezionarne una alla volta in questo modo posizioniamoci su una finestra premiamo il tasto sinistro del mouse e spostiamoci in basso in questo modo verranno chiuse in maniera più veloce posso fare questo per tutte le finestre presenti nei vari editor e mi permetterà anche di avere una migliore visione d'insieme di tutte le finestre può capitare di avere l'outliner con molti oggetti elencati e la necessità di rinominarli invece di carli qui possiamo rinominarli in modo più rapido ed efficace selezionando quello che ci interessa e premendo f2 e quindi rinominarlo da qui una considerazione penso che sia importante avere un'infarinatura di base del programma conoscere le caratteristiche principali che ci permetteranno di lavorare con blender senza fatica ma non è necessario conoscere perfettamente tutto poiché molte delle funzioni più specifiche del programma possiamo impararle quando effettivamente ne avremo l'esigenza tuttavia è sicuramente indispensabile avere un approfondita conoscenza degli strumenti che faranno parte della nostra cassetta degli attrezzi in base a quello che diventeremo se diventeremo dei modellatori invece che degli animatori e così via ok questo è tutto per la nostra panoramica su l'interfaccia utente di blender come accennato all'inizio questa sarà una playlist sulle basi di blender per imparare ad utilizzare al meglio il programma se vi è piaciuto il video mettete un bel like o iscrivetevi al canale grazie ragazzi alla prossima ciao